Buongiorno a tutti, sono Marcello Giusti e insegno Tai Chi e Qigong e vi voglio proporre degli esercizi semplici che potete ripetere anche a casa per lo scioglimento del corpo e per sviluppare il movimento dell'energia interna. Movimenti di scioglimento scuodere il corpo raccogliere il cielo Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!